Una tragica notizia appena giunta in redazione, è morto a Tenerife Alberto Menegatti, atleta trentino di fame internazionale, vice campione mondiale di slalom windsurf. Menegatti si trovava a Tenerife per allenarsi e non sono ancora chiare le circostanze della sua morte. Trent'anni, roveretano di nascita e gardesano di adozione, Alberto Menegatti faceva capo sportivamente al circolo surf di Torbole.